Satira, ironia e divertimento sono le parole d'ordine del nostro prossimo spazio. State a vedere alla mia destra Lino De Nicolò e alla mia sinistra Tiziano De Palma. Ben trovati, salve, salve, va bene. Si tratta di attori, ragazzi scusate un po' di serietà, attori, comici e osservatori diversamente critici della realtà. Benvenuti. Diversamente siamo noi. Diversamente critici. Tu sei diverso da noi. Sembra criticare. Il mondo è bello perché è vario. Ma che significa diversamente critici? E che osservate la realtà da un punto di vista tutto vostro. Certo, è vero. Va bene, la vostra presenza qui in due, ora io non vorrei dire come i carabinieri diciamo in due. No, 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 ci mancherebbe. No, senza nessuna offesa. Facciamoli fare agli altri carabinieri. Carabini, sì, sì, facciamo fare in multa agli altri. Agli altri, noi no, va bene. Ha un perché la vostra presenza qua? Perché da qualche giorno in onda su Telebari è uno spazio tutto vostro, addirittura. Sicuramente, dopo due anni abbiamo finalmente... Ma io non l'ho visto ancora, sta facendo. Ah, io l'ho visto. Ah, venerdì scorso, stavo dormendo perché mi dispiace. Oh sì, venerdì scorso. No, io l'ho visto ieri, è stata la fin del mondo. Mi fate fare la giornalista seria, per favore. Allora, lo spazio si chiama Scherza al Market. Vogliamo dire di che cosa si tratta? Sì, vogliamo dire di cosa si tratta. Tu non parli, lui non sa. No, io quando si tratta di cose burocratiche, ma la vedo io. Le cose più semplici, sì. Allora, Scherza al Market è un programma, insomma, sulla falsa riga del classico camera caffè. Perché dobbiamo fare pubblicità agli altri casi? No, non è il camera caffè di Apigio. Ah, ok. Cioè, più o meno è, stiamo parlando di sketch cortissimi, però ambientati all'interno di un supermercato, c'è un supermercato, chiedo schiuma, e io e il Tiz, quindi Lino e Tiz, ci troviamo in situazioni un po' imbarazzanti e quindi allo stesso momento cerchiamo di fare i comici, troviamo la signorina, la vecchietta, il vecchietto che chiede dov'è il melone, allora Tiziano si imbrogli, invece dà il melone, gli dà un'altra cosa. Dipende, insomma, ci troviamo in queste situazioni un po' così colà. e credo che, spero, specialmente io, che nelle case si rispecchia un po' la gente, perché di solito quando uno va al supermercato va, si imbroglia con la spesa, con tutte queste cose qui. Va bene, staremo a vedere. Tu ci vai spesso a fare la spesa? Eh sì, quando va mia madre sì. Sei uno preciso lista oppure quello che capita prendi? No, io prendo tutto, poi mia madre rimette a posto di solito. Quindi ancora la mamma, diciamo? Purtroppo ancora la mamma, salutiamo le mamme a casa, ciao mamma. Sempre, la mamma è sempre la mamma. Torniamo a serie se è possibile. Mia nonna diceva, il modo migliore per dire qualcosa è dirlo ridendo. Sì, sì. Quali sono allora i temi dei vostri sketch, come li scegliete e soprattutto come li preparate? Li preparate? Insomma, non li prepariamo di solito, perché noi siamo proprio così, nel senso che noi andiamo al supermercato anche per fare la spesa, per i fatti nostri. Spiega, spiega. E ci succede. Eh, scriviamo. Allora, ti faccio un esempio. L'altro giorno siamo andati al bar per un caffè, ci siamo seduti e detto, Lino, ma sai che mi è venuta questa in mente? Ce la siamo raccontata? Ed è uscito fuori un bello sketch che poi vedrete. No, perché non ci date adesso un'anticipazione? Beh, senti, guarda, posso, Tiz, praticamente io mi avvicino a Tiziano, e dico, Tiziano, ma lo sai che hanno inventato uno spray invisibile? E io dico. No, veramente, Lino, scusate, com'è? Niente, praticamente tutto lo spruzzi addosso e poi sparisce. Incredibile. Spettacola, per dire, questa è una cosa che ci è venuta. Due folli, sappiatelo. Allora, in ogni coppia che si rispetti c'è sempre il comico e la spalla. Chi fa cosa dei due? Rispondo io, poi rispondo anche lui, perché noi non siamo né comici né spalle, siamo una squadra, siamo un duo, siamo una spalla e un comico e una spalla e un comico, ci piace spalleggiarci, ci piace fare il comico, quando l'altro vediamo che ci fa la spalla. Ci alterniamo, sì, sì, ci alterniamo perché la differenza tra me e lui non c'è, perché comunque abbiamo... Come Tiziano Ferro. No, no, ne fe, no, l'ho cambiato, perché comunque dentro di noi, allora io, vabbè, ho iniziato... Forse facciamo un discorso serio, dentro di noi, introspettivo, però... Sì, sì, cerco, cioè, perché altro io a lui l'ho conosciuto in un villaggio turistico che faceva già il capovillaggio, poi ho iniziato anche io a lavorare con lui e quindi mi sono anch'io messo in questo campo qui, mi sono trovato veramente bene, quindi tra noi, tra i vari sketch che abbiamo provato e le cose, abbiamo notato che io so fare perfettamente il comico, ma anche lui, quindi ci siamo organizzati in qualsiasi situazione in cui ci troviamo che Tiziano, beh, allora dai, fai tu, faccio io, ci organizziamo... Relazione empatica, diciamo... Sì, siamo praticamente due raschiati di mente, cioè... Questo è chiaro. C'è un cric e cervello e quindi... E va, e va, e vengono fuori le cose migliori. Ma questa relazione lavorativa, intendo, dura da molto? Siamo da sette anni fidanzati, stiamo pensando a matrimonio e... Cose serie. Sì, adesso non so se forse stiamo pure incinta, vedremo... Ma lo dico e sei costiziano, non lo so, vabbè, io non lo volevo dire... Le fan, le fan adesso? Le fan, appunto. Vabbè, no, non è vero, non è vero, non sta incinta, però ci stiamo pensando, dai. Vabbè, pensateci, fatemi sapere, venite qui a dare il lieto annuncio. Torniamo a scherza al market, ci date qualche... ci raccontate di qualche aneddoto sul fuorionda? Allora, il fuorionda... Cosa più strana che vi è successa fino ad ora? Nel programma, all'interno... Mentre lo registravate. La cosa più strana che è successo è che... Praticamente è arrivato questo vecchietto e noi abbiamo detto, ok, allora mi raccomando, devi venire, devi dire, scusa, la cartigenica... E allora Tiziano doveva dire... Che doveva dire? Io dicevo, sente, ma che tipo di cartigenica vuole? Quella liscia, quella della scottex, quella col palloncino che sale, quella ruvida, quella liscia, quella... La lunga. Quella lunga, tante cose. Gli ho detto tante cose, però ho detto, quale desidera? E il vecchietto, doveva dire, per pulirmi il... Vabbè? Ha detto, no, quella rizza sotto e liscia sotto, una parola senza senso. Sì, con lo strado, no, lo strado, liscio, no, lo strado lungo e rizzo sotto. Allora, quando l'ha detto, ovviamente noi eravamo impreparati su questa improvvisazione, ci siamo guardati negli occhi, scoppia, cioè tutto il supermercato è scoppiata a ridere, quindi queste sono le cose belle che succedono. Che succedono, che questo mestiere dà la possibilità di poter sperimentare. Al di là dei supermercati, ci sono altri progetti? Guarda, i nostri progetti sono soprattutto quelli estivi, speriamo di fare ancora delle serate, come le stiamo facendo tuttora, anzi, veniteci, seguiteci. E poi comunque sì, noi, come già diceva Lino, lavoriamo nel campo dell'animazione, siamo un capo villaggio, un capo animazione, quindi veniteci a trovare anche nei nostri villaggi, perché quello che... Quest'anno dove sarete? La località, non il villaggio. Quest'anno siamo nel Salento. Molto bene. Salento, sì, sì. Però di solito sarebbe il scendento, perché se vai più su è Salento, però di solito... Scendento. Scendento, perché se sa c'è scendento. Mi sembra giusto. Ricordiamo gli appuntamenti con Scherza al Market? Allora, Scherza al Market tutti i venerdì, ovviamente alle ore 20.45, su Telebari, e non a qualche altra TV, perché noi siamo di Bari e andiamo su Telebari. Mi sembra doveroso. Doveroso, è rigoroso. E poi tutti i giorni in replica, lo dice lui, tutti i giorni in replica, lo dico io, perché pure lo dice lui, tutti i giorni in replica. Voi seguitici, state su Telebari, 24 ore al giorno, che prima o poi ci siamo anche noi. Venerdì 20.45 e poi seguite sempre, perché ci sono tante belle cose a Telebari. Ragazzi, non vedete gli altri canali brutti, inguardabili, che non ci sono, non si vede niente. Su Telebari ci sono le cose migliori. Scherza al Market. Io? Va bene. Cioè, c'è pure la signorina che... Echè, veramente... Che vergogna! No, complimenti alla mamma, veramente, che noi ce la portiamo, ce la portiamo, vero? Complimenti a Telebari. Andiamo a fare la spesa? No, andiamo a fare la spesa tutte e tre. Beh, noi ce la andiamo, perché è inutile che siamo qua. Ma tu stai con la nonna, aiuto! Ciao! Aiuto, aiuto! Aiuto!